Primo sopralluogo questa mattina nelle case popolari di Via Adamoli hanno partecipato il comune, l'Ater, la ditta e gli inquilini. Che situazione avete trovato? Sì, come avevamo già annunciato a seguito dell'incontro con il prefetto, finalmente oggi abbiamo fatto il sopralluogo negli appartamenti di Via Adamoli. Naturalmente la situazione è uguale a quella che più volte è stata lamentata dai cittadini, dagli inquilini di Via Adamoli. Quindi abbiamo visto con i nostri occhi, ma noi del comune già l'avevamo fatto in diverse occasioni, che effettivamente ci sono delle criticità all'interno degli appartamenti. Le criticità sono diverse, sono molteplici, quindi io farei un distingo. Gli arredamenti da una parte, l'uso, l'utilizzabilità dell'appartamento in quanto tale dall'altra. Ricordiamo che in alcuni appartamenti alcuni inquilini sono rientrati, come hanno fatto? In alcuni appartamenti sì, effettivamente in due o tre appartamenti su 32 gli inquilini sono rientrati, ma da quello che ho capito hanno fatto a proprie spese, comunque anche in economia, determinati lavori. E magari non tutti gli inquilini di Via Adamoli possono permettersi di sostenere spese per aggiustarle, per riorganizzare un appartamento. Ma il problema consiste soprattutto nel fatto che stiamo parlando di persone che attualmente hanno perso il beneficio del CAS e che quindi in questo preciso istante stanno pagando gli affitti con i propri soldi. Però oggettivamente se sono persone che hanno una casa popolare effettivamente non possono avere soldi da spendere per sostenere spese di un affitto. Quindi dobbiamo comprendere anche questo lato che è molto importante e che avrà sicuramente una ricaduta dal punto di vista sociale.